E' gravissimo il bilancio dell'incidente avvenuto nella scorsa notte a Modugno sulla strada statale 96 in direzione Altamura a causa dello scontro tra un'autovettura e un Pullman. Tre morti e due feriti, tutti a bordo di una Mini Cooper guidata da un 29enne a perdere la vita sul colpo è stato un 21enne, Michele Traetta, originario di Bitonto ma residente a Toritto, mentre altri quattro giovani erano rimasti gravemente feriti. Questa mattina, dopo il ricovero d'urgenza al Policlinico, ieri sera sono morte invece due ragazze le cui condizioni erano apparse sin da subito molto gravi. Si tratta della 19enne barese Sara Grimaldi e della 25enne di Mola di Bari Elisa Buonsante. Non sarebbe invece in pericolo di vita il conducente della vettura, mentre è ricoverato nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico barese un altro giovane che era seduto accanto a lui. Il mezzo si è scontrato con un bus turistico guidato invece da un 65enne, secondo quanto finora ricostruito dagli inquirenti. Dopo l'impatto con il Pullman che si stava immettendo sulla strada statale 96 dopo aver sostato in un'area di servizio, l'auto ha urtato prima contro lo spartitraffico e poi contro il muro sul lato destro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.